vedere se si ricorda ancora ne abbiamo persi tutti e due i penelli devi solo sperare che così impara la moto perché se gli fa vedere certe cose dopo è capace però è troppo aggressiva per te sto benelli sto facendo un po di confezione salta giù dal mutesa salta sulla scopa salta sulla vertiglia per lui è un tito stesso la mano è la mano puoi avere in mano quello che vuoi questo è più rabbioso è più rabbioso è un po' più e qualche giunta del telaio che è andata oh grazie a tutti dei giri stamattina li ho sfruttati tutti mi sembra più che giusto mi sembra più che giusto le moto sono fatte apposta acuccia acuccia dai lì acuccia no è la rovinata di più lui adesso ma che questo qui non è brutto sai questo qui no no sai cosa ti fotte se parti diritto bene l'ala la ciccola io sarei sceso qua quindi fate scuola con lui gli fate provare la moto in cambio vi dà tutte le lezioni esatto passi con noi così non è due giorni che ci conosciamo passi c'è le tritte vuoi mettere è come il beruschi dell'ele